Eh? No, quella è tu qua. Ma perché non ti prendi quel cappello? Perché ne vieta e ne ne parliamo. La priorizzazione di questo giardino. Io sin da piccolo, frequentando il Gran Sasso, devo dire che sono più le volte che lo abbiamo trovato in una condizione di degrado, di semiabbandono. Un giardino sfiorito mette tristezza, non è certo un bel biglietto da visita per il territorio e io credo che invece bene abbia fatto finalmente l'università a investire su questo luogo, anche perché la vocazione del Gran Sasso come luogo di grande ricerca, qui alle nostre spalle c'è l'osservatorio, sotto il nostro laboratorio di fisica nucleare, insomma deve essere rilanciata e potenziata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.